Ed eccola qui Anna Maria Galic, spilungona di quasi due metri di chiare origini slovene ma di nazionalità austriaca. Fa parte della Gold Sport scuderia di Steve Barbieri che su YouTube la presenta con novizia di particolari. Nata in Tirolo 21 anni fa, gioca da opposto ma talvolta in nazionale viene schierata anche da centrale. Il prossimo anno giocherà nella Bartocini Fortin Fissi Perugia dopo aver militato nella scorsa stagione nel Branic di Maribor con cui ha conquistato negli ultimi anni tre secondi posti di cui uno in campionato e uno in coppa. Argento per lei anche con la nazionale austriaca nel 2021 all'European Silver League. Arriverà a Perugia per la seconda volta nella sua vita, la prima quattro anni fa quando poco più che adolescente venne in gita con la scuola e nella mente le è rimasta da allora la bellezza della città, dell'Italia e dell'italiano. Lingua che ha studiato fra i banchi e che ora avrà l'occasione di rinfrescare agli ordini di Matteo Bertini. La trattativa è partita circa un mese fa, poi a salvezza acquisita è stata accelerata ed ora eccola qui. Il suo obiettivo sarà migliorarsi confrontandosi con un campionato senza dubbio più impegnativo. È una giovane promessa con tante potenzialità fanno sapere dalla Bartocini e i tifosi non vedono l'ora di ammirarla in campo così come lei è già ansiosa di misurarsi con questa nuova sfida.